Buonasera amici, vigilia di Benevento Juventus, appuntamento alle 18 domani in terra campana per una partita che si pronuncia complicata perché in Serie A impegni facili non esistono e considerando anche poi un pochettino le condizioni collettive della Juve è chiaro che sulla carta parliamo di una gara priva di qualsiasi storia ma poi come è accaduto a Crotone i match vanno giocati la Juve, questa è la novità di giornata e non è la novità quando gioco di parole per chi ha seguito gli aggiornamenti gol.com e quelli sui miei social la Juve si presenterà a Benevento senza Cristiano Ronaldo non c'è nessun infortunio, c'è solamente un turno di stop concordato per far sì che il portoghese resti qui e faccia un allenamento diciamo anche di scarico è chiaro che quando parliamo di sua maestà è Cristiano Ronaldo parliamo di un giocatore che si avvia grandi passi verso i 36 anni e per quanto sia un marziano e per quanto sia il miglior calciatore del mondo comunque si deve gestire, lo sa bene lui, lo sa bene Andrea Pirlo che ha confermato questa tesi oggi ai microfoni di Juventus TV quindi tutto concordato, Cristiano Ronaldo resta a Torino per prepararsi alle sfide della prossima settimana ovvero quella ormai in influente per quanto concerne il passaggio del turno in Champions già ottenuto contro la Dinamo Kiev e poi il derby contro il Toro un derby sempre un derby quindi bisogna arrivarci carichi è chiaro che poi qua possiamo parlare ore e ore sul fatto che sia un rischio o meno presentarsi in queste partite senza Ronaldo a Lecce l'anno scorso accadde la medesima cosa e la Juventus pagodazio a Crotone la Juve non poteva puntare su Cristiano Ronaldo ha faticato in lungo e in largo ottenendo infatti un solo punto da questa trasferta dove avrebbe dovuto vincere in maniera più convincente e quindi è chiaro che ci stanno tutte queste tesi le sto leggendo, sono in parte condivisibili però dobbiamo anche considerare la componente, la grafica per CR7 e quindi anche da questo punto di vista è comprensibile che considerando come la Juventus abbia un tour de force complessivamente considerando anche già le sfide disputate contro il Cagliari e quella di Champions parliamo di 10 appuntamenti in un mese quindi è normale che Ronaldo debba rinunciare a qualcosina vedremo quali saranno le scelte di Pirlo che là dietro recupera Bonucci convocato è chiaro che se è partito con la squadra è lecito aspettarsi che giochi titolare io ho dubbi per il proposito ne ho davvero ben pochi anche perché per stessa missione di Pirlo è difficile rivedere Alexandro per un'altra volta titolare nella seconda di fila dopo che è rimasto tanto tempo fermo va centelinato, va dosato quindi tutte le strade per Alexandro portano la panchina così come anche, questa è una mia notizia che voglio condividere con voi anche qua un quadrado dovrebbe andare in panchina sta giocando tanto, tantissimo anche il colombiano in maniera molto legittima ha bisogno di rifiettare quindi se così fosse se dovessero riposare entrambi i sudamericani a quel punto la difesa 4 che poi diventa 3 in fase di costruzione da destra verso sinistra sarebbe pressoché fatta ovvero Danilo imprescindibile De Ligt Bonucci recuperato e Frabot a centrocampo ci sono un po' più di scelte Chiesa dovrebbe tornare dall'inizio così come sicuramente otterrà una maglia titolare Rabiot vedremo a sinistra in questo centrocampo a 4 chi giocherà tra Kuluseschi barra Bernadeschi c'è anche l'opzione Ramsey a geometria appunto variabile tra le linee quindi vedremo un pochettino quali saranno le scelte di Pirlo e da davanti fiducia ovviamente in Dybala attendendo che trovi il primo centro in campionato e chissà che non lo trovi proprio a benevento e sarebbe un'importante iniezione di fiducia in vista del proseguo ad affiancarlo il solito Morata che sta vivendo uno stato di grazia da quando è rientrato la Juventus sta facendo cose incredibili anche soffermarsi sui numeri sarebbe riduttivo perché Morata mai come in questo momento va visto va osservato va analizzato perché parliamo davvero di un calciatore completissimo sull'intera scala internazionale e che sta facendo le fortune di una Juve che è stata molto brava lungimirante a prenderlo con una forma creativa ovvero una sorta di prestito abbiendale con diritto di riscatto quindi la Juve si presenta a Benevento Alexandro in panchina Quadrado in panchina fiducia a Chiesa al primo minuto fiducia a Rabiotto al primo minuto poi ovviamente monitorate i miei social per rimanere aggiornati sulla formazione perché le informazioni da Benevento arriveranno ora dopo ora quindi iscrivetevi al mio canale YouTube mettete like ai miei video la maggior ragione se ti fate Juventus questo è il vostro habitat naturale ormai lo sapete benissimo e anche osservate ovviamente gol.com perché sulla formazione della Juventus ci lavoreremo fino in tarda serata ci lavoreremo tutta la mattinata e i domani e poi alle ore 18 non si scherza più con una partita che la Juventus ha un imperativo categorico da seguire ovvero vincere e convincere un abbraccio